Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare i conchiglioni ripieni di melanzane. Gli ingredienti sono i conchiglioni, le melanzane, la passata di pomodoro che ho già cotto con un soffritto di aglio e poi ho aggiunto il basilico, il parmigiano grattugiato, il basilico, la scamorza, naturalmente potete utilizzare anche la mozzarella e la mortadella tagliata sottile e sottile, naturalmente anche qui potete utilizzare il prosciutto cotto. Ora, tagliamo le melanzane a rondelle, così, e poi andiamo a tagliarle a dadini. Facciamo dei dadini, dei tocchetti piccoli perché saranno il ripieno dei conchiglioni. Ora, io continuo a tagliare le melanzane e ci vediamo dopo per la cottura. Riscaldiamo l'olio nella padella e andiamo ad aggiungere le melanzane. Aggiungiamo il sale e le facciamo andare fino a quando non saranno morbide. Allora, le nostre melanzane sono cotte e adesso andiamo a farcire i conchiglioni. Alle melanzane cotte andiamo ad aggiungere il formaggio, la scamorza tagliata a tocchetti e la mortadella. Ricordatevi sempre che quel che mettete, quel troverete. Mescoliamo. Naturalmente, se volete farle vegetariane, potete tranquillamente evitare di mettere la mortadella oppure il prosciutto cotto. Aggiungiamo un mestolo di passata. Anche due. Così. Ora, il ripieno è pronto. Cosa facciamo? Andiamo a farcire i conchiglioni. Quindi, innanzitutto andiamo a mettere un po' di sugo sulla base del nostro tegame. Mi raccomando, non fate il sugo troppo denso, altrimenti non riuscirete a cuocere i conchiglioni. Con l'aiuto di un cucchiaino andiamo a farcire i conchiglioni così. E li mettiamo sulla base del tegame. Li mettiamo qui, così vedete meglio. Mi raccomando, belli pieni, perché poi la pasta in cottura si allarga. Aggiungiamo anche il basilico, che prima avevo dimenticato. Mescoliamo. E io continuo a farcire i conchiglioni. Farciti tutti i conchiglioni, li andiamo a sistemare nella tegame. Andiamo a cospargere di formaggio grattugiato. Ancora della scavorza. A me piace abbondante e qui la metto tutta. E ricopriamo con la passata di pomodoro. Iniziate dai bordi. E poi andate al centro. Come facciamo a capire se la passata di pomodoro è sufficiente? Basterà scuotere leggermente il tegame, così. Vedete? I conchiglioni sono immersi nel sugo, quindi riusciranno a cuocere agevolmente. Ora andiamo a coprire, come sempre, con carta forno bagnata e stagnola. Mi raccomando, la stagnola non a contatto col cibo. Quindi, prima la carta forno e poi la stagnola. Andiamo a cuocere in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti. I nostri conchiglioni ripieni di melanzane sono pronti. E adesso ve ne faccio vedere uno. L'ho appena sfornati. Vi ringrazio per aver seguito questa videoricetta. Alla prossima, ciao!